Salve a tutti, in questo brevissimo video tutorial vi farò vedere come andare a smontare il bussolotto per le luci in una Golf 6. Il procedimento è molto simile anche per altre auto del gruppo, quindi Audi, Volkswagen, Seat e Skoda. Come procedere? Mettere il selettore in posizione 0, premere e girare a destra. Dopodiché si tira e il bussolotto viene fuori. Si stacca quella che è la spina e in un attimo avrete il vostro bussolotto in mano. Questa operazione può servire per cambiare il bussolotto se è danneggiato, per altri tipi di attività, non so, per magari chi vuole portare qualche upgrade alla sua auto in quest'ambito. Ad esempio qua possiamo vedere che non ci sono i ferretti antinebbia anteriori, quindi vuole cambiare il bussolotto perché ha deciso di montarlo, eccetera. L'installazione è praticamente il procedimento inverso, si preme, si gira di nuovo a 0 e come vedete il bussolotto è di nuovo in posizione. Grazie a tutti e alla prossima.